Tra i problemi che deve affrontare un'azienda agrituristica c'è l'assunzione del personale nei periodi di picchi di lavoro. Un lavoro che seguendo le stagioni dell'agricoltura e del turismo vive momenti di grande frequentazione ma anche mesi dove scarseggia la clientela. Sicuramente quello che ha penalizzato tanto è stato il discorso di togliere i voucher per quanto riguarda il lavoro. Uno deve ragionare sul discorso che i mesi ormai non esiste più la bella stagione o la brutta stagione. Io magari posso aver bisogno di aiuto o una mano in determinati giorni, sono tra virgolette costretta ad assumere una persona per un mese o comunque per due mesi o tre mesi che sia e poi magari quella persona alla fine non la faccio venire a lavorare perché magari in quel mese piove quasi tutto il tempo. Quindi sicuramente il discorso del voucher era una cosa invece positiva. Si riusciva a tenere comunque le persone in regola e in sicurezza in maniera molto più semplice. Adesso invece si obbliga l'azienda agricola ad avere dei costi che non sono necessari. Ma quali attività svolge e come è organizzato un agriturismo che ha scelto di avere un'offerta di prodotti e servizi molto variegata? Siamo due soci, siamo io e Claudia. Abbiamo iniziato questa avventura da sole qualche anno fa prendendo un'azienda già esistente in precedenza in cui lavoravamo. Ci sentivamo che questo posto per noi era già casa. Dato che il vecchio titolare aveva deciso comunque di riposarsi rispetto a quello che può essere l'impegno di un agriturismo abbiamo deciso di prendere noi le redini in mano e quindi di portare avanti questa avventura. Siamo un team quasi esclusivamente femminile se non per i maschietti che teniamo in cucina e per i ragazzi che aiutano nella stalla. Siamo comunque una famiglia allargata. Siamo in tanti e stiamo ben insieme. Ci vogliamo effettivamente bene quello del discorso. Siamo un'azienda agrituristica che parte da un'azienda agricola con nove serre di riscaldate. Abbiamo una stalla con diversi vitelli di razza piemontese. Tutto quello che vedete sul tavolo è prodotto da noi. Ci occupiamo non soltanto di quello che è la parte agricola ma anche di quella che è la parte turistica. Quindi abbiamo 12 camere a cui abbiniamo l'utilizzo della piscina. Abbiamo un ristorante. È un impegno che ti tiene ovviamente sette giorni su sette all'interno della struttura. Però quando hai la passione, quando comunque ti piace quello che fai, lo fai sempre col sorriso comunque sulle labbra. Siamo aperti con il ristorante principalmente per i clienti dell'albergo ma assolutamente aperti anche a persone che gradiscono venire da fuori. Mi piace l'idea di ospitare, mi piace l'idea di far sentire le persone comunque a casa. Mi piace l'idea di far assaggiare determinati prodotti perché comunque so il lavoro che c'è dietro. Quindi tante volte quello che secondo me serve l'agriturismo è se io vado al mercato e compro solo magari la testa di insalata non hai idea di quello che c'è dietro la testa dell'insalata. Avere un'azienda agrituristica significa permettere alle persone di apprezzare questa testa di insalata dare comunque un valore a quello che viene fatto. Se dovessi consigliare ai giovani, assolutamente sì, mille volte, perché è uno di quei lavori che ti riempie non soltanto le giornate e tutto ma ti riempie il cuore. Ma darei il consiglio di farlo con una testa un pochettino diversa, di creare una rete dove se io ipoteticamente non arrivo in qualcosa se mi unisco a un altro coltivatore diretto a me riusciamo a fare molto di più di quello che un singolo può fare da solo quindi lo consiglierei assolutamente ma di cercare comunque di aprire un pochettino gli orizzonti e ragionare comunque su un'idea comunque di comunità. Le difficoltà sono enormi. Partiamo già dal discorso del Covid. Lo Stato stesso nel momento in cui ha elargito dei contributi lo ha fatto con ovviamente le aziende commerciali che per colpa del Covid non potevano lavorare. L'azienda agricola in teoria per lo Stato lavora perché giustamente tu dici non è che chiudi perché tu continui a produrre. Ma il problema fondamentale è stato che c'è stata una richiesta molto inferiore di tantissimi alimenti perché le persone tendevano a non uscire di casa, tendevano comunque a farsi il pane in casa. Questo comunque ha generato un problema non indifferente perché io se dentro la stalla ho un tot di bestie ragionata comunque giustamente su quello che può essere un consumo normale mensile ci si ritrova purtroppo a dover affrontare una crisi dove le bestie continuano a mangiare ma non c'è richiesta di carne e allora in quel caso diventa anche difficile per noi. Purtroppo in quel momento c'è stato un momento un attimo di stallo dove comunque se tu magari dovevi anche semplicemente macellare le bestie, le bestie purtroppo valevano niente. Comunque è stato un calo di richiesta molto molto netto. Poi come se non bastasse è arrivato il discorso della guerra e lì le mazzate grosse sono arrivate ovviamente con i rincari del gasolio, il rincaro ovviamente delle bollette, del gas. Bene o male sono quasi raddoppiati. Tenere comunque una struttura simile comunque in piedi ha dei costi non indifferenti. Quindi è normale che di conseguenza ci sia un rincaro anche di prodotti italiani. Quindi tante volte bisogna un attimino soffermarsi e cercare di capire il tipo di lavoro che c'è dietro ogni singolo prodotto che voi mettete comunque a tavola. Se magari appunto lo stato riuscisse a dare una mano in questo senso sarebbe una cosa più che ottima. Abbiamo anche animali che teniamo per compagnia perché poi abbiamo anche la passione per gli animali non soltanto perché ci devono portare tra virgolette un profitto ma anche perché comunque hai il piacere di averli. Loro vivono liberi, felici e poi abbiamo la nostra super mascotte che è l'amore della nostra vita si chiama Grufi ed è una maialina.